Stadio Giovanni Morra di Vallo della Lucania, l'ultima giornata del Gironei, il presidente Tavassi omaggia Puglisi con una targa per cocladurarsi per la storica promozione in C. Passerella anche d'onore per la squadra della Gelbison prima del calcio di inizio. Si comincia col primo pallone manovarato dalla Polisportiva. Uliano per la Gelbison, pallone sul fondo, attacca adesso la Santa Maria sulla destra. Todisco per Vincenzo Romano, va via Romano, il traversone, la sponda di Maggio, Kunzi in spaccata, porta in vantaggio la Santa Maria, 1-0. Ancora Santa Maria, Simonetti, Maggio di testa, blocca d'Agostino. Gelbison, attenzione, Di Fiore, la conclusione alta. Corre rosso-blu, la gamba di testa, impreciso. Santa Maria, corner, Koulibaly d'Agostino. Salva la Gelbison, si resta sull'1-0. Di Fiore dalla parte opposta si gira bene, la conclusione la traversa, salva Viscido. Si va al riposo, sull'1-0. Si ricomincia con il Santa Maria in vantaggio. Avanza la Gelbison in area di rigore, D'Angelo fa tutto bene. Il tiro, Koulibaly si immola e salva in corner. Gabionetta è entrato da pochi minuti. Gabionetta, ancora lui. Si ferma Gabionetta. Gabionetta, il tiro, pallone dell'angolino. 2-0, perla di Gabionetta per il Santa Maria. 2-0 per la squadra di Mister Nicoletti. Coraggio allo Rossi. Simonetti per Maggio. Maggio alle spalle di D'Agostino. E sono tre per Maggio. capocannoniere del raggruppamento con 20 gol. Gelbison, Graziani, il tiro fuori deviato sarà angolo. E arriva il triplice fischio. Il Santa Maria vince 3-0 il derby del Cilento.